A tutte le unità disponibili, individuo sospetto a piedi, agente sul posto. Gli agenti sul posto stanno affrontando il sospettato, agire con cautela. Dice che dovranno licenziarmi visto che suo marito va in prigione. E levati di mezzo. Dice che suo marito ha fatto qualcosa con il posto, non so, ma non è una ragione per toglierlo alla sua famiglia. Non ho visto niente, niente! Sento qualcuno che grida! Deve essere qui intorno, non vi fermate. È un vecchio palco, lo dico io, turista di New York, turista, capisco. A tutte le unità, nessun contatto visivo con il sospettato. Avviare le ricerche nelle vicin... Devo passare in farmacia. Qui non c'è, proviamo di là. A tutte le unità dei baraggi, attenzione, il sospettato ha aperto il fuoco contro le unità sul posto. Via di... Lo trovo da solo. A tutte le unità, nessun contatto visivo con il sospettato. Avviare le ricerche nelle vicinanze. Deve essere qui intorno, non vi fermate. Niente di niente. A tutte le unità dei baraggi, attenzione, il sospettato ha aperto il fuoco contro le unità sul posto. Unità di supporto, perso contatto visivo con il sospettato. Certo che sei un bel tipo. Attenzione, a tutte le unità, sospettato localizzato, le unità sul posto stanno ingaggiando. A tutte le unità, un agente richiede assistenza. Dov'è, Giorgi? Ci siamo persi, ma prima mi aveva detto che ci saremmo rivisti alla casa. Ripeto, nessun contatto visivo. Codice 35, individuo sospetto su un veicolo. Unità di supporto sul posto. Gli agenti sul posto stanno affrontando il sospettato. Agire con cautela. Gli agenti sul posto. Gli agenti sul posto. Gli agenti sul posto. Gli agenti sul posto. Unità di supporto, sospettando avvitato nel down-down. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie per la visione!